Questo è buono, questo l'ho portato su dal mare per brindare assieme al nostro sindaco che anche oggi è uscita una notizia che l'acqua del mare è pulita, perciò io non mi ero sbagliato di dire Questa è appena presa dal nostro mare e noi brindiamo alla salute dell'Adriatico e alla riviera di Rimini Adesso brindiamo Grazie signor sindaco, questo è un regalo per tutti voi, potete venire in vacanza a Rimini tranquillamente che l'acqua è pulita